150 loculi saranno di nuovo a disposizione del cimitero dell'Ulivo grazie a un intervento di risanamento finanziato dal comune di Fano. Da tempo infatti le infiltrazioni delle acque meteoriche provocavano danni alla struttura, suscitando la mentele da parte dei cittadini per la carenza di loculi stessi. Questa mattina per visionare l'andamento dei lavori iniziati il 9 maggio scorso, il sindaco Seri e l'assessore lavori pubblici Cristian Fanesi hanno effettuato un sopralluogo insieme al geometra Bruno Agostinelli. Nel corso di questi sei mesi da quando sono assessore sono arrivate tantissime richieste, in particolare anche per il cimitero dell'Ulivo, un investimento importante di 185 mila euro che abbiamo riservato solo al cimitero dell'Ulivo per recuperare e ricavare altri loculi utilizzabili, anche perché quando ci siamo insediati uno dei più grandi problemi era quello appunto che nei nostri cimiteri non c'erano posti per nuove inumazioni per loculi disponibili. Quindi questa è una prima risposta, diciamo 185 mila euro sono una cifra molto importante, seguiranno anche altri interventi, ma insomma qui si sta lavorando e credo che i cittadini si siano resi conto che insomma al di là delle parole si fanno molti fatti in questa amministrazione. I lavori eseguiti dall'impresa Guidi Giovanni di Serra Sant'Abbondio dovranno terminare entro il 28 agosto salvo proroga. Questi loculi avevano dei problemi di infiltrazione di acqua, abbiamo tolto il terreno sopra, abbiamo scassato dietro i loculi, abbiamo fatto un canale con ghiaia, un tubo drenante in modo che l'acqua che scende, ovviamente i loculi li abbiamo imprimerizzati e la guaina li abbiamo protetta con della plastica bolle e praticamente l'acqua andrà via, che qui abbiamo fatto questo collegamento che è nella fogna qua. Quindi ci sono dei tubi drenanti che raccolgono l'acqua e così con tutta la guaina che abbiamo messo questi loculi finalmente saranno utilizzabili. Il ribasso d'asta poi di circa il 25% verrà riutilizzato per sistemare altre zone del cimitero. è previsto inoltre un intervento sui campi di inumazione 16, 17, 18 e 19 per rendere il terreno più idoneo al processo di mineralizzazione delle salme.